L'Arci di Ocesi di Lucca è pronta a offrire aiuto e accoglienza alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina, mettendo a disposizione alcuni dei suoi spazi sul territorio e promuovendo una serie di azioni umanitarie attraverso l'ufficio pastorale diocesano che, in stretto contatto con la Caritas italiana, sostiene le attività degli omonimi uffici in Ucraina e nei paesi limitrofi come Polonia, Moldova e Romania. Un impegno che Monsignor Paolo Giulietti ha espresso nel corso della veglia di preghiera in cattedrale, nella serata di lunedì 28 febbraio, un momento di raccoglimento e riflessione a cui la comunità lucchese ha partecipato numerosa. Nel corso dell'incontro Giulietti ha invitato anche i fedeli a segnalare la disponibilità di case e appartamenti, inviando una mail o telefonando alla Caritas. Durante la veglia è stata effettuata anche una raccolta di offerte che saranno destinate proprio alle esigenze dei profughi in arrivo. La Caritas della provincia fa sapere anche che ha avviato una raccolta fondi per supportare rapidamente i paesi interessati dal conflitto e che nei prossimi giorni potrebbe attivare una campagna per prodotti specifici, difficilmente reperibili in loco.